Intanto subito una buona notizia. I vaccini pediatrici ci sono. Il carico arrivato ieri mette al riparo da situazioni di difficoltà. Poi novità in ordine sparso, quelle esposte oggi al microfono di Rete 8 dal dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale della ASL di Pescara. Una su tutte l'anticipiamo subito. Si sta pensando ad un possibile open day, anzi no, open night, per agevolare le somministrazioni agli over 50. Partiamo dalla buona notizia che è quella che risponda alle preoccupazioni espresse ieri sui vaccini per i bambini, i vaccini che sono arrivati. Sì, ieri nel pomeriggio sono arrivate 6.000 dosi che ci consentono per il mese di gennaio di stare tranquilli e poter vaccinare tutti quelli prenotati e fare le seconde dosi. L'aver portato da 5 mesi a 4 mesi la possibilità di effettuare la terza dose ha aumentato la platea dei vaccinati, dei vaccinabili di circa 60.000 persone di punto in piango e questo insomma sta mettendo un po' in difficoltà ma stiamo rispondendo con i nostri hub vaccinali e ieri abbiamo raggiunto 5.500 vaccini in una sola giornata nella provincia di Pescara. A percezione di un aumento per quella fascia degli over 50? Sì, perché anche come prime dosi stiamo oramai a valori di 300-400 e qualche giorno anche 500 prime dosi giornaliere. E per queste persone è prevista una iniziativa tipo Open Day? Stiamo pensando per cercare di dare soddisfazione a tutti per la vaccinazione di organizzare delle giornate dedicate agli over 50. Giornate o nottate? Giornate o nottate, vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Poi ancora invece sulla sede individuata per un ulteriore, per aggiungere un'ulteriore sede vaccinale a Pescara, cioè il Palazzo Fuxas, i lavori stanno andando avanti, quando sarà pronto tutto? I nostri uffici tecnici stanno lavorando per sistemare gli impianti centrali e speriamo nell'arco di una decina di giorni di poter aprire il centro vaccinale e così avere anche la possibilità di avere ulteriori 700-800 dosi giornaliere in più. Oggi si legge sui giornali che Anthony Fauci ha detto tanto ci contagieremo tutti. Eh sì, purtroppo penso anche io a questa cosa. Penso che oramai, sai, è questione di tempo, ma tutti quanti saremmo coinvolti da questo virus. Però la vaccinazione è importante perché anche il contatto di qualcuno di noi con il virus significa avere comunque una malattia asintomatica, quindi essere asintomatici e poter nel breve tempo ritornare al lavoro, ritornare nelle attività normali.